Siamo nel dopo partita di Euro-Girifalco-Mammola, 2-1 per l'Euro-Girifalco e siamo con il dirigente del Mammola, il signor Macri. La partita si era messa subito bene, poi che è successo? Non è successo niente, era una segnalazione che noi abbiamo sbagliato su una posizione, abbiamo sbagliato a lasciare libero Perina che è l'unico che tira in porta e sai tirare in porta, lo sapevamo, abbiamo sbagliato e loro con l'occasione hanno segnalato. Il secondo gol è stato fatto su una disattenzione del nostro portiere che ha chiamato la palla e è stato anticipato dal loro giocatore, è stata una partita che secondo me il pareggio era giustissimo, anche all'ultimo abbiamo sbagliato un gol e fatto, abbiamo messo la traversa, quindi niente da dire. La partita è iniziata subito, il salito, perché già i primi minuti abbiamo apprezzato un gol sul punizione, un bravissimo giocatore nel Mammolo a mettere la settimana scuola, c'era una palla incredibile per il nostro portiere, però siamo stati bravi a reagire e a recuperare questa partita che si è avversa un po' indipendentata per noi. Il Mammolo non è bella squadra, è il primo posto in classifica, però noi giustamente ci giudiamo tutti i partiti e ci stiamo preparando prima di tutto per arrivare ai polisani. A noi ai prof veramente non ci pensiamo, noi pensiamo a giocare. partita per partita, quello che viene poi sarà, ci alleniamo per giocare le nostre partite e per vincere, poi quello che viene poi se arrivano ai prof, sarà un di più che ci prepareremo ad accogliere. Sovranato uno! Sovranato uno!